Musica Sì No, il randurale è arrivato, vedo qua i cendici, che ho aspeto a camminare. Certo? Ch Bueno, mi dovuto prendere un pozzo, ma non abbiamo fatto uno. Però non è fatto una cosa che non c'è un' Ciao Cosa? 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 Non so... era il modo che si veni fu al Financello? non era il sistema uculti licissi, non zonni, l'ultima 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 era l'ultima 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 se si pensi ti mostro il video è ok, ti merghi al piso? si, dupor Sì, sì, ho messo. anche qui tu sei qui? si non, 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 questo è quello che ho usato solo per la minore perché non ho troppo spazio per la minore non è venuto perché è pesante ho acquistare l'interno se vuole non hai venuto in L5? si hai venuto? hai venuto in L5? in L8 in l'interno c'è l'interno ho anche video non c'è nombra non è venuto si se pensi che ti mostro il video solo un sec